In conferenza dei sindaci all'unanimità abbiamo individuato nell'assessore Caterina Barbuti la figura di riferimento che parteciperà al tavolo regionale che si occupa di contrasto alla violenza di genere. Ringrazio i colleghi per questa scelta e Caterina per la disponibilità, credo veramente sia la figura ideale per interpretare questo ruolo perché nel corso degli anni se n'è sempre occupata con grandissima passione e anche soprattutto grandissima competenza, quindi gli rivolgiamo un sentito in bocca al lupo. Diciamo si aggiunge un ulteriore momento di riflessione e di approfondimento per quanto riguarda le tematiche della violenza di genere, quindi oltre al tavolo che coordinava tutta la provincia d'Arezzo con tutte le istituzioni presenti, si aggiunge un altro momento che sarà insieme a Regione Toscana e a Danci Toscana. Questo perché per questa tematica, ma come molte altre, è sempre necessario avere uno sguardo d'insieme e cercare di trovare strategie e procedure che portino sempre a migliorare la situazione e anche ad adeguarla alle condizioni attuali. Quindi sarà un motivo di impegno e sarà importante e speriamo di poter apportare delle modifiche a una procedura da anni molto attenta e precisa che viene svolta nella nostra Regione Toscana circa la violenza di genere.